Eccoci qua Manuel e Link a Parrini, allora sei appena sceso dal ring contro un avversario fortissimo sicuramente è più basso di te a livello di leve, più corto di te a livello di leve ma è un pugile che quando tira i colpi si fa sentire. Le tue impressioni su questo match Manuel? Le mie impressioni sono che questo ragazzo è molto più esperto di me e si è visto anche sul ring ha dato molto, non è venuto qua per perdere certo e ringrazio i miei familiari, il mio team, tutta la mia gente che è stata vicino con me e che mi supporta sempre. Ringrazio anche Alessandro per questa bellissima serata targata di Cinderella e grazie a tutti per essere venuti Ricordiamo che Manuel stasera era il suo esordio nel professionismo quindi ti facciamo veramente tanto, tanto, tanti in bocca al lupo e tanta, tanta, tanta fortuna per la tua carriera e speriamo di vederti prestissimo sul ring Grazie Manuel. Vuoi dire qualche cosa a qualcuno? Ringrazio soprattutto mio padre che è una delle persone che mi è stata più vicino lungo il mio allenamento Grazie mille Manuel, ci vediamo prestissimo